Ridurre gli sprechi e aumentare la capacità attrattiva del territorio. È stato questo l'obiettivo dello studio Mena in Biosfera e Deritage, condotto dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, che ha applicato un approccio sistemico ai siti UNESCO presenti in Piemonte. L'intento? Facilitare la connessione e lo scambio di esperienze tra diversi siti e contribuire allo sviluppo economico dei territori che li ospitano. In questo progetto specifico andiamo a lavorare sui siti UNESCO in modo da creare una rete di siti UNESCO che non lavorino più in modo indipendente uno con l'altro ma che abbiano uno scambio sia a livello culturale ma anche materiale e di servizi che creino una sorta di distretto fluido e dinamico all'interno della regione in modo da rafforzare la capacità attrattiva e di valorizzazione del territorio che già i siti UNESCO hanno. Sette le aree coinvolte nel progetto che vuole creare, oltre ad un maggior dialogo tra i vari siti UNESCO, cittadini consapevoli e orgogliosi del proprio territorio. Bisogna cercare di far sì che questi siti che rappresentano, come diceva appunto, più del 30% del territorio regionale comincino all'interno dello stesso sito a avere dei rapporti relazionali gli uni con gli altri cioè la produzione, cultura e cittadini in modo tale che ci sia una conoscenza e una consapevolezza delle caratteristiche e dei valori che si hanno in quel territorio. Lo studio, che si inserisce tra le attività previste dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 2015 con il Consiglio regionale del Piemonte attraverso la consulta europea, è ora la sua fase attuativa e vuole essere di impulso per la nascita del distretto piemontese. L'importante è assolutamente farli dialogare, e questo noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, per cercare di aumentare la valorizzazione e la promozione del nostro fantastico territorio. Bisogna avere un filo conduttore comune e non essere sconclusionati. dovrà assolutamente, questa è l'idea della consulta europea, si dovrà arrivare alla firma di un nuovo protocollo d'intesa che sarà la base per giungere a un unico distretto piemontese.